Si va in trasferta per l'undicesima giornata del Gionef della Serie D. L'isernia di mister Francesco Farina viaggia verso terre abruzzesi per continuare a fare bene e risalire ancora alla classifica. Ad attendere i molis anni ci sarà un Celano che naviga al penultimo posto con soli cinque punti, uno in più dell'ultima. Celano ancora a caccia del primo successo stagionale, infatti i cinque punti in classifica sono frutto di cinque pareggi e cinque sconfitte e gli uomini di mister Pierleoni vengono dal punto conquistato in casa con il Fidene. Fermo ai box il giovane difensore di Bacco classe 93 a causa dell'espulsione rimediata e del centrocampista Granaiola per somma di ammunizioni. Il tecnico dovrà rivedere i suoi undici per modificare il pacchetto under ma dovrebbero scendere in campo, nutricato tra i pali, difesa a quattro con Antonelli, Rea, Di Stefano e Ferrara. A centrocampo Monti, Tavano, Mascioli ed Alfano, coppia offensiva composta da Lazzarini e Sabatini. Dal canto suo l'Isernia ha metabolizzato subito la sconfitta contro la Maceratese, tornando al successo per 4 a 1 contro la Jesina e dopo aver trovato la via del successo casalingo, tre su cinque disputate, vuole tornare a vincere anche in trasferta, successo arrivato solo nel derby con l'Agnone. Il mister De Biancocelesi avrà solo una defezione per il match di domani in cui si prevede di dover sfondare un catenaccio da parte dei padroni di casa. Infatti il terzino under Lunardo è squalificato per somma di ammunizioni e quindi il trainer campano, trovato il modulo giusto con il quale giocare, avrà il problema di scegliere tre dei quattro centrocampisti da attacco e come schierarli e soprattutto come sostituire lo squalificato, ma dovrebbero orientarsi per il classico 4-3-1-2 con D'Arienzo tra i pali. I quattro di difesa sono Ricci a destra, Nicolai che arretra sulla fascia sinistra difensiva, Varchetta e Fusaro i centrali, i tre di centrocampo Ruggeri di Giambattista e Galuppi, Vinci Guerra svarierà dietro le due punte Panico ed Artiago. L'arbitro del match con inizio alle ore 14.30 al comunale di Celano sarà il signor Arcangelo Vingo di Pisa, coadiuvato dai signori Enrico Scoppetta e Nicola Rago.